Ancora episodi di presunta violenza contro le donne emersi in Sicilia nei giorni scorsi. A Messina un uomo di 31 anni è stato arrestato nel pomeriggio dello scorso 29 aprile dai poliziotti della squadra mobile peloritana e indagato per maltrattamenti contro i familiari e danneggiamento seguito da incendio. Vittima la ex compagna che per anni avrebbe subito minacce, aggressioni fisiche e verbali persino una volta finita la relazione. L'uomo non avrebbe mai accettato la separazione e successivamente avrebbe messo in mezzo anche i familiari della donna. L'ultimo grave episodio in ordine di tempo sarebbe stato, secondo la procura di Messina, l'aver dato fuoco al furgoncino del padre della vittima utilizzato per lavoro. Sulla scorta degli elementi emersi durante le indagini raccolti dalla polizia, la procura della Repubblica ha chiesto il provvedimento restrittivo al GIP che ne ha tempestivamente condiviso il quadro probatorio applicando nei confronti del 31enne la misura della custodia cautelare in carcere. A Bronte invece una donna moldava giunta in Italia da qualche mese per cercare lavoro sarebbe finita vittima di maltrattamenti e persino di un episodio di violenza sessuale. Sotto indagine una coppia di rumeni, 39 anni lei, sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e 41 lui, finito invece in carcere. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita lunedì 29 aprile su disposizione della procura distrettuale della Repubblica di Catania dagli agenti della squadra mobile etnea. Le indagini scattate dopo una segnalazione proveniente dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia avrebbero consentito di far emergere reiterati maltrattamenti e lesioni personali subite dalla donna alla quale sarebbe stata fratturata una clavicola e persino un episodio di violenza sessuale che sarebbe stata consumata da entrambi gli indagati e della quale la 39enne avrebbe videoripreso alcune fasi con il proprio telefono cellulare. Nella memoria del suo smartphone che è stato sequestrato sarebbero stati trovati tre brevi video relativi al fatto. La vittima è stata trasferita in una struttura protetta mentre i due indagati, prelevati dalla loro abitazione, sono stati condotti presso gli uffici della squadra mobile per gli adempimenti di rito. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari poiché è madre di minori. L'uomo è stato invece trasferito nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria.